Riecheggia un sonoro e fastidioso comportamento secondo cui la Lega di Serie A rappresenterebbe la dimostrazione della peggior mala gestio del Paese e questo mi dà estremamente fastidio. Voglio ricordare come, anche sotto la gestione commissariale del sottoscritto, la continuità sportiva e aziendale non si sono mai interrotte e che anzi si sono raggiunti ragguardevoli risultati. Tutti importanti obiettivi raggiunti di cui oggi in troppi sembrano essersene dimenticati. Eppure non si è ancora rimarginata la ferita per la mancata qualificazione della nostra nazionale al Mondiale di Russia. Prima che Presidente federale io ho sofferto da tifoso azzurro, come tanti milioni di italiani, pur non condividendo quello che oggi sembra essere una sioma, non si sa basato su che cosa per cui il giudizio sull'attività sportiva debba condizionare il giudizio sull'attività gestionale. Questa profonda amarezza ha in effetti influenzato le mie scelte politiche. A seguito di un risultato sportivo così negativo i tifosi avevano bisogno di colpevoli e li hanno avuti. Ma, care delegate e care delegati, non sottomettete la vostra intelligenza, il vostro orgoglio a chi vuol far credere che il calcio in Italia rappresenti il male assoluto. Non è così. Il calcio italiano, al contrario, è un motore inesauribile di opportunità, un moltiplicatore di passione, un contribuente considerevole. Più di un miliardo di euro vengono versate nelle casse dello Stato. E quali sono i ritorni? Io non ho fatto nessuna critica a nessun calciatore che è sceso in campo, a nessuno. Me lo sono presa io la colpa di questa situazione. Sarà la storia a dirci se è stato fatto tanto o poco. Ma a voi oggi dico non buttiamo tutto a mare, ripartiamo dalle basi soldi che abbiamo gettato. Il cambiamento era già in atto e non può essere un risultato sportivo, seppur gravemente negativo, a rimettere in discussione tutto, vanificando ingenti investimenti impiegati in diversi settori. Una federcalcio con i conti in ordine, nonostante i ripetuti tagli dei contributi operati dal CONI. Ci ho pensato molto, se dirlo o no, ma lo dico. Noi abbiamo avuto tagli incredibilmente non proporzionati alla nostra presenza sul territorio e alla nostra capacità. Grazie a tutti. Arrivederci.